L'ex stabile della Banca d'Italia di Belluno rinascerà riconvertito sotto una nuova veste grazie all'acquisizione da parte della società FNC Project delle famiglie Francavilla e Chemello, un'operazione che si aggira attorno ai 4 milioni di euro e che darà vita ad un parco commerciale pedonale che dal palazzo dell'ex Banca d'Italia si stenderà fino al Palazzo Bembo e all'ex ospedale. In fase di realizzazione vi è già lo studio affidato alla società CBRE impegnata a livello mondiale nella consulenza commerciale. Abbiamo deciso di intraprendere questo progetto nella convinzione che la città di Belluno sia una città che ha un grande potenziale inespresso in termini economici e in termini commerciali. A nostro parere ha bisogno di avere motivi di attrazione commerciale al centro che possano avviare un processo virtuoso di sviluppo e crescita delle attività economiche. Verrà sviluppato in strettissima integrazione con il progetto di recupero dell'ex ospedale. Auspichiamo che il progetto di sistemazione, ristrutturazione e adattamento del palazzo ex Banca d'Italia possa prendere avvio in tempi ragionevolmente stretti. Al termine del progetto sarà messa a disposizione della popolazione un'area pedonale di circa 6-7 mila metri quadrati rappresentata da delle piazze, rappresentata dai giardini e che daranno, credo, un volto nuovo al centro cittadino. Un progetto che sicuramente contribuisce alla valorizzazione del territorio bellunese. Crediamo fermamente in questo territorio che ha dato moltissimo alla nostra famiglia e vogliamo in qualche maniera restituire qualcosa a questo meraviglioso territorio. Un'iniziativa definita dal sindaco di Belluno Jacopo Massaro decisamente virtuosa.